Buongiorno, ci siamo? Che ci vada bene, perché sto freschino. Bene, allora avete sentito parlare di Pietro. Pietro ha fatto una settimana di lavoro da noi che stiamo costruendo in paglia e poi mi ha chiesto di fare questa giornata, che io gli ho risposto assolutamente no. Però insiste, insiste e quindi siamo qui. Quindi la dote di Pietro non molla, però è molto educato, per carità, non pensate male. Girando un po', combinando le cose, siamo riusciti a inventare questa domenica, vedo che siete in tanti, abbiamo preparato la locandina lunedì sera, e non so come avete fatto da martedì a oggi, a muovere tanta volontà. Benissimo. Ecco. Bene, qua il caldo latita, va bene. Allora, ricominciamo con l'architettura, poi faremo un po' di agricoltura e poi qualcosa forse di alimentazione, perché il tema è generale, centrato principalmente sull'architettura, per cui inizierò dall'architettura e poi mi estendo per similitudine un po' agli altri campi. Questa era la mia idea. Quindi il titolo che ho voluto dare è stato Le quattro ecologie. Un argomento che noi abbiamo già sviluppato in vario modo, che è quello che noi applichiamo, e vedremo, il primo discorso sarà quello dei materiali. Premetto, diciamo che io sto realizzando adesso il nono lavoro, chiamiamoli lavori, perché c'è da edifici a semplici coperture, muri e tutto quanto, con la paglia. E per chi conosce il nostro lavoro abbiamo realizzato l'edificio in paglia, il più grande d'Europa, di sicuro. Forse il più grande non solo d'Europa, però non lo sappiamo. Insomma, ecco, quindi un po' di esperienze l'abbiamo fatta. Quando abbiamo lavorato con la paglia, il grande problema è stato, sono stati i progettisti, gli architetti, perché non la conoscono e normalmente non hanno voglia di mettersi a studiare un materiale che probabilmente non incontreranno più nella loro vita professionale. Non è che ogni giorno uno ti chiede un edificio di paglia. Per cui noi ci siamo presi tutto il materiale formativo degli americani, gli americani sono loro che hanno sviluppato gli edifici in paglia, e ce lo siamo disegnato, progettato, e poi abbiamo detto adesso firmi o non firmi, e hanno firmato e ce lo siamo fatti. Questo per dire il più grande che abbiamo fatto. Bene, allora torniamo al discorso delle quattro ecologie. E' chiaro, ha a che fare con l'uomo, no? Quindi il piano fisico, il mio corpo fisico, è chiaro, quindi il mio corpo fisico deve non essere ammaccato, ecco diciamo così, nel campo dell'edilizia, quindi la scelta dei materiali. E su questo do solo i titoli, perché ne abbiamo da parlare. Speravo fosse arrivata la giacca, va bene. Poi c'è il piano che noi chiamiamo eterico vitale, quindi i sette processi vitali, dalla respirazione allo sviluppo di calore, processo vitale oggi molto interessante, poi la secrezione, la riproduzione, la digestione, la circolazione del sangue, e quando li dico così mi perdo sempre. Però ho preparato un foglio per voi, quindi non siete abbandonati, che è un po' un riassuntino di tutto quello che faremo oggi. E quindi sì, vanno sostenuti. Ad esempio un edificio che stiamo facendo negli Stati Uniti è una persona che ha dei problemi di salute abbastanza, insomma, che lo limitano. Abbiamo fatto tutto un edificio che sia terapeutico per lui. Un altro che mi viene, questo con la paglia, un altro che mi viene in mente, però non era di paglia, abbiamo fatto nella zona di Brescia, un bambino tetraplegico, nato tetraplegico, quindi carrozzina adesso, che non puoi fare niente, perché solo nel tempo peggiora. Allora abbiamo fatto, grazie, vado via, adesso mi metto questo, grazie. È già caldo. Dove era che è già caldo? Allora abbiamo fatto uno studio su queste cause che può provocare questa situazione e è venuto fuori che la mamma, quando era al quinto mese di gravidanza, ha avuto il trauma della morte della madre, brutto diciamo, e nel quinto mese di gravidanza si definisce il sistema nervoso dell'embrione del bambino, per cui abbiamo fatto tutta una serie di riflessioni che bisognava aiutare quel processo che si era bloccato a causa del trauma della mamma. Sempre lavorando anche insieme ai medici, abbiamo individuato che appunto il quinto mese di gravidanza corrisponde quando nell'embrione, nel feto ormai, agiscono le forze del cancro, le forze del cancro, sapete il simbolo del cancro, tutti lo conoscono, ed è come una sinapsi del sistema nervoso, capite, quando passa il messaggio. E allora abbiamo costruito, progettato e poi è stato costruito, tutto un edificio a forma della costellazione del cancro, compreso tutto lo spazio attorno, che sono qualche ettaro, non ricordo se due o tre ettari, con un sistema di piante, proprio studiate le piante, che entrano dentro, in questo modo l'edificio è fatto in questo modo semplice, ma da una parte e dall'altra, tipi specifici di piante incanalano le forze del cancro dentro quell'edificio, con un punto centrale, magari, visto che ne parlo tanto, non era previsto, troveremo una foto dopo, con un punto centrale, dove c'è sempre nell'edificio una specie di torretta, con una stanza particolare, con degli angoli particolari di muratura, dove il bambino vive. Ossia, tutto è stato fatto per il bambino. E' anche sui giornali questo edificio qua. e il bambino è scatenato in carosella. Ormai ha 15 anni, si è avuto un diploma, no, con le medie, però non ha peggiorato. Io non dico che sia un terapeutico, però perlomeno fermare un processo degenerativo, perché quello è un processo degenerativo. Questo perché? Per l'edificio, un edificio ha la proprietà di farti ammalare. Un edificio fatto in un certo modo ti fa ammalare. Negli Stati Uniti le case di cemento le hanno buttate giù, proprio le hanno battute, perché hanno visto che il costo sanitario delle case di cemento è maggiore che rifare le case. loro sono un po' come i cinesi, i cinesi anche così, decidono, boom, e le fanno di legno. Legno, poi usano il cartongesso a ultramisura, quello parleremo, però hanno cambiato. Se è un edificio nuovo in calcestruzzo, almeno che non sia un grattacielo, le torri gemelle per dire, ma se no non le fanno più. Case private sono a pannelli e basta, leggere. Quindi se un edificio ha il potere di farti ammalare, io ragiono, vuol dire che un edificio ha anche il potere e il potere di guarirti. Logico. Come si fa? Ecco, allora noi ci siamo impegnati, abbiamo costruito circa 25.000 metri cubi da noi, un ecovillaggio, per costruire edifici che chiaramente abbiano queste proprietà. Chiamiamolo igienico, terapia è già più avanzato, deve essere delle cose specifiche, però possiamo dare delle indicazioni su cosa può essere un edificio terapeutico. Bene, quindi vi ho detto, l'elemento fisico, la scelta dei materiali, che uno dice, metto legno, ho fatto ecologico, non è vero per niente. Non è vero per niente. Vi faccio un esempio, un esempio semplice. mi serve qualche mezzo elettronico, elettrotecnico, elettricista, o qualcuno che si ricorda cosa ha fatto alle medie, perché nessuno ce lo ricorda più. Se tu prendi due metalli diversi, li metti uno vicino all'altro, si crea una corrente galvanica, elettrostatica no, galvanica, per cui il termosifone, quando erano quelli fatti di acciaio, col tubo che arrivava di qualcosa d'altro, l'entrata del termosifone era sempre ruggine. Non ci sono più quelli di acciaio, ma qualcuno se lo ricorda. È la pila di volta, il sistema della pila di volta, un metallo, un altro metallo, un dielettrico in mezzo, e alla fine hai corrente elettrica. Cioè due metalli diversi creano una microcorrente elettrica. E vabbè, dice, cosa c'entra con le case? Due legni diversi, messi uno vicino all'altro, creano una corrente eterica, quindi agisce nei processi vitali, che noi non sappiamo cosa fa, perché non c'è uno studio approfondito. Quindi da quando io faccio tutto in legno e uso legni diversi, che è normale, perché faccio un pavimento, non so, di noce, dico noce, ma sotto metto magatelli, si chiamano, quei correnti sotto che sostengono, che in genere è abete. Quindi dal momento che io metto due legni diversi, creano un campo, diciamo, di forze vitali, forze eteriche, che va capito e va gestito. Altrimenti io ci dormo sopra e soprattutto dove si dorme è, come dire, da curare al massimo grado. Ecco, questo per dare solo un esempio di cosa vuol dire legno, due legni diversi, cosa creano. Su questo, con rispetto, e non vorrei parlare in termini un po' orgogliosi, sono studi nostri, non si trova niente, non si trova niente di questo discritto. Perché noi abbiamo purtroppo una visione ecologica che è detta chiara, è materialista, no? Vedo legno, ho fatto l'ecologia. Molto meglio farlo di ferro piuttosto che di un legno mal combinato. Il ferro lo conosco, il legno non sappiamo. Perché ci sono, se vi ricordate, il giochino di parola, se io scrivo la parola pianeta e tiro via la E, viene fiori pianta. Quindi ogni pianta in relazione alla forza planetaria. E quindi se io ho una predisposizione al tumore e mi chiamo un legno della luna che sviluppa la divisione cellulare, diciamo che sono a rischio. Oh, la casa di Alessio con la torretta. L'abbiamo fatta veramente allora. Allora, vediamo se si capisce qualcosa. Sì, questa, questa è la famosa torretta dove lui, lui c'è la sua stanza e dove tutte le forze confluiscono. Per dire, il gioco del tetto è stato così difficile da fare, proprio quel tetto lì, che la ditta che ci ha fornito i coppi le ha regalati e messi in opera. E nel suo, nel suo poster, quello grande, facciamo anche il nome, Cotto Possagno, visto che è stato un atto di generosità, eccolo qua. Ecco, vedete qui, questo è il suo poster per dire, noi abbiamo fatto questo lavoro qua, questo gioco di tetto qui. Per aiutare questo bambino, che ormai è un ragazzino. Qui siamo nel Bresciano, a Sarezzo, tanto per qualche d'uno volesse conoscere. Bene, complimenti che l'hai trovata. Benissimo. Metti l'ecovillaggio. no, adesso basta, insomma, è inutile. Metti l'ecovillaggio, se vuoi come su. Sì, sì, va bene. Questa è fatta in muratura, diciamo, tutto ecologico, tradizionale, e sono, come dire, siccome me le faccio per me, e mi avete invitato, posso anche dire come la penso, insomma, no? Sono molto, diciamo, critico, ma non critico avversario, critico della superficialità che c'è nel cosiddetto ecologico. È molto, molto superficiale, molto, molto. Ci si accontenta, appunto, delle scelte dei materiali e di sicuro il legno fa bene, non è niente vero. Una randallata qua, ti accorgi che il legno non fa sempre bene, no? Ecco, e avanti così. Bene, allora ho detto qualche cosa che riprenderò tutto, adesso faccio solo un accenno. Sulla parte vitale, vi ho detto, la parte vitale sono il fluire delle forze vitali, allora soprattutto corridoi, scale, spazi, ritmi. Non so chi di voi ha visto Gaudì a Barcelona, sì? Qualche di uno c'è stato, le scale come le faceva, lo studio delle, io mi innamoravo di quelle scale. A parte che ero in cima una volta su alla Casa Pedrera che mi abbracciavo i comignoli per sentire quelle forme e poi mi sono guardate intorno perché c'era tutta la gente che mi guardava e sembravo, non so, non voglio dire cose oscene, però io ero, perché i cammini sono due metri, due metri e mezzo di diametro, e sentire quelle forme, non devi guardarle, devi sentirle con la mano, devi sentirle con la mano, una forma, devi sentirla con la mano, non devi, se devi dire, ah sì, mi piace, non mi piace, devi sentirla, vedere cosa ti dice dentro, no? il concavo e il converso sono due esperienze fondamentali dell'anima, il concavo accolgo, capisci? Quindi l'anima che accoglie, simpatia, tutto, e il converso invece me ne vado fuori, no? Quindi io mi manifesto, quindi introverso ed estroverso, quindi l'insieme di concavo e converso è veramente, siamo entrati già nell'animico adesso, nella ecologia animica, muove le forze dell'anima e se questi due, tra il concavo e il converso, li faccio così, non voglio mai usare la carta, c'è un periodo che sono micragnoso, non voglio usare niente, se li metto con un tratto dritto e diciamo, allora ho, diciamo qua il concavo, qua entrano più le forze animiche, qui ho, scusate, il converso, escono le forze eteriche e qui c'è un equilibrio, quando li metto a toccare, si chiama flesso, in geometria questo è un flesso, concavo e converso uniti, questo qui è di una potenza incredibile, perché ti dà la possibilità di avere a disposizione tutte le forze vitali, quando li unisci così, ma devi saperlo gestire, perché il fatto di avere, come dire, c'ho il caro armato e posso avanzare, sì, ma devi sapere da che parte, se no facciamo come Don Camille del pepone col caro armato, capito, forse qua siamo un po' in zona, insomma, ecco, le cose vanno gestite, quando sono delle forze, le forze vanno gestite, perché una forza ti fa tanto bene, ma ti può fare tanto male, capite, il coltello, lo devi prendere la parte giusta, si sa, che bel coltello, guarda che bello filato, guarda che bella punta, sì, dammelo, sì, tracchete, quattro dita in un colpo, capite, vanno gestite e quindi il mondo delle curve e Gaudet è stato un maestro in questo, vanno organizzate, questo è il nostro ecovillaggio, si vede molto male, ma per chi non ci conoscesse, questo è il primo edificio, abbiamo fatto in mattone, tutto ecologico, magari vedremo qualche cosa, poi siamo passati a questo di Paglia, questo è quello di Paglia, la stanza grande, per dire qua sopra, sono 400 metri quadri, un unico ambiente, e qui stiamo costruendo in legno e lana, una terza soluzione, quindi abbiamo provato diverse soluzioni e adesso io consiglio sempre, sempre la Paglia, abbiamo provato un po' tutto, la Paglia, dico solo un fattore, la Paglia, o se tu avessi una balla di Paglia da mezzo metro, per capire quanto isola rispetto al muro devi moltiplicare per 4, quindi mezzo metro di Paglia sono due metri di muro, basta. Questo qui, che vedremo magari qualche foto, l'abbiamo costruito con i balloni, non con le balle, con i balloni da un metro e venti, quindi un ballone da un metro e venti, moltiplichi per 4, sono 5 metri e 60 metri di muro, 4 vetri, 4 vetri, e la stanza di sopra che ho veduto su un 400 metri quadri è alta, sono 1600 metri cubi, la stanza di sopra, noi la scaldiamo con una stufa da 6 kilowatt, la stufetta così, e qua più di uno ha visitato la stanza, lo sa, quando inverno, inverno ne accendiamo due, proprio quando andiamo a meno 10, cioè, è cosa fantastico, e più lo senti perché la paglia è sole, di frumento, ci dimentichiamo, la paglia è sole, il polistirolo, il petrolio, capite, è sole, tu lo senti, se uno è un po', ma tutti lo sentono, mi ricordo una volta è avvenuto una, una, come si chiama, una, televisione locale, che doveva intervistare uno per finire tutto un lavoro, dico, vabbè, andate su, fate lì l'intervista, come è arrivato su, ha detto, al cameraman, facciamo l'intervista in due minuti e adesso facciamo tutta la ripresa di questo edificio, una roba del genere, la sera stessa è andata sul Tg regionale, il titolo era Un angolo di paradiso, e uno, ci ha messo in video, c'è, sì, sono cose che fanno effetto, che dopo entreremo dentro, magari qualcosa vi faccio vedere, bene, allora si diceva, l'ecologia eterica è data dai flussi, e sui flussi do stare attento soprattutto alle scale, i corridoi, ma soprattutto le scale, perché nelle scale mi muovo anche tra due piani, quindi se oraria è anti-oraria, cambia completamente l'energia di un edificio, se io giro orario o anti-orario, allora se giro orario, ricordatevi la cosa semplice, tutto quello che gira orario, per voi è così, è orario, escarna, escarna, io mi escarno, se giro anti-orario mi incarno, quindi per andare al piano di sopra dove si dovrebbe dormire, io dovrei andare su, orario, mi escarno, perché andare a dormire vuol dire andare fuori con l'io, con la parte sottile, e poi misteriosamente, questa è altra tecnologia, al mattino io scendo e la scala si è rovesciata e diventa anti-oraria, sono i miracoli della bassa tecnologia, e quindi io scendo e mi incarno per andare nel mondo, ci sono, e adesso vado a dormire, vado a dormire orario, scendo e diventa anti-orario, questa è una banalità, se la scala è rovescia bisogna fare una forma particolare sul giro scale che la rirovescia un'altra volta, vado sempre per titoli e poi vi do i particolari, bene, scusate che mi sono preparato a qualche cosa, andiamo sempre nell'eterico, nell'eterico processi vitali, ad esempio, visto che ho qua un testimone, quando abbiamo messo giù la prima paglia, stiamo facendo adesso, fino a ieri sera, la prima balla abbiamo incominciato da un punto in modo da continuare poi in senso anti-orario nella stanza, non è che incominci poi vai a destra, poi vai a sinistra, no, la stanza e le balle vengono disposte secondo un senso incarnativo, allora la forza dell'edificio aumenta, questo ci fa fatica, ci fa fatica comprendere che un edificio ha della forza, a secondo di come è costruito, chiama determinate forze, energie e processi, è fondamentale l'anti-orario, così anche il pavimento, quando si mette giù un assito, un pavimento o qualcosa, sempre girare anti-orario, si comincia dal punto più lontano e si fa proprio il giro delle stanze, cioè la stanza fatta questa si esce, poi si fa l'altra, poi si fa l'altra e immaginate sempre di agire in questo modo, l'edificio diventa più forte, senza parlare poi del tipo di assito, senza parlare del disegno che eventualmente come si dispongono, che anche lì c'è da entrare nei particolari, sempre titoli, perché vediamo poi cosa vi interessa un po' di più, un po' di meno. Bene, quello che è la cosa peggiore che possiamo fare per la puntista delle forze vitali è costruire a 90 gradi, 90 gradi è l'angolo della morte, la cassa da morto, bella, comoda, ed è normale nella razionalità costruire tutto a 90 gradi, questo a 90 gradi tutto, ma è normale, perché se ho ad esempio anche le tavole, se ho qui un pannello, se taglio tutto a 90 gradi quello che rimane è poco e niente, lo sfrido è economia, le finestre, le porte, tutto quanto a 90 gradi e questo però ogni volta che si passa sotto quella porta io ho un leggerissimo calo di forze e quando diventa un'abitudine diventa un'abitudine. Prova a vedere se trovi le porte che abbiamo fatto nelle case di legno, tanto che io ti dico, con i coprifili, tanto lei cerca, perché ci sono le alternative, adesso arriveranno, quindi stare molto attento ai 90 gradi se volete delle sicurezze, delle controprove dove avete a casa uno spigolo a 90 gradi che viene in fuori mettete una ciotola con un po' di ovata e un po' di semi di frumento e fate germinare e ne mettete un'altra 30 centimetri più in là quindi via dallo spigolo fate solo la prova vedete quanto germinano davanti allo spigolo e quanto germinano un pochettino più in là se questo è lo spigolo ecco se io fossi lo spigolo dovete immaginare che la situazione è così quindi se uno dorme lì ad esempio non è che dorme bene oppure le travi sopra il tetto tutto di legno tutto spigolo vivo io che un po' con gli anni non so se è un bene o un male mi è venuta una sensibilità per queste cose c'è un amico uno dei fondatori della bioarchitettura in Italia che ha fatto una casa bioarchitettura tutto quanto con tutte le travi di legno 90 gradi solito io non riesco a dormire avevo le lenzuola tanto per dire quanto eravamo amici ero di casa proprio neanche porto la sud però quando dormivo lì era sempre una sofferenza riuscivo a farlo una notte un giorno dopo facevo corsi ma due notti no finché è stata una volta che si metteva a ordine le ho dato una mano e in soffitta aveva le vecchie travi stondate e allora guarda guarda e ha detto ascolta una brandina qui non possiamo e ha cominciato a dormire bene ma era mezzo magazzino non interessa niente chiudo gli occhi la trave stondata ecco qua si riesce a capire beh tornerà c'è allora eccole qua si vede se riuscisse a vedere il coprifilo il contorno tira via tutto che si ingrandisca ecco lo vedete si riesce o non si riesce eh non so cosa farci fa il buio un po' non è fa il buio dietro beh in ogni modo i coprifili partono stretti poi si allargano e poi ci hanno questo 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 timpano fatto così questa qui geometria sacra quindi l'elemento spirituale questa geometria sacra messa in sezione aurea lo dirò fra un attimo terapeutica quindi ogni volta che io passo sotto quella porta invece ho un'azione terapeutica quindi riequilibrare il quadrato perché non posso farmi le porte se mi chiamassi Gaudì mi scatenerei anche in quello noi dobbiamo prendere le porte normali e cercare di metterci una pezza come si suol dire qui si vedo male io figurati magari dopo chi vuole più da vicino le vede è questa qui questa è casa mia bene allora parlando ancora di anima l'anima dobbiamo pensare la casa io la penso la casa come ogni stanza fosse un organo perché l'anima dell'uomo vive principalmente legata ai sette organi principali quindi senza adesso entrare in varie filosofie dobbiamo pensare quindi uno spazio cavo è sempre uno spazio dove entrano entrano ho detto entrano determinate forze animiche quindi la cucina soggiorno camera da letto eccetera eccetera io devo pensare che forme specifiche dare a quella stanza perché non è che facciamo come l'architettura moderna che ti mette un prefabbricato io vengo dal Friuli post terremoto poi mettono una targa con scritto comune questo era il comune stesso prefabbricato con scritto chiesa stesso prefabbricato con scritto mensa capisci cambiava solo l'etichetta l'edificio deve rispecchiare l'attività che si fa dentro l'edificio deve essere su misura all'attività che si svolge all'interno quindi dov'è ben chiaro l'attività che voglio svolgere e dov'è ben chiaro poi i locali all'interno di questa e questo va bene così bene quindi la disposizione delle stanze all'interno dell'edificio i corridoi collegano i corridoi devono essere larghi più possibile larghi adesso di moda i corridoi sempre più stretti perché spazio rubato quindi avere questa dimensione e le stanze vederle appunto come il loro collegamento come tra gli organi umani l'importante che l'organo sia sano ma il dialogo che c'è tra gli organi così i corridoi e scale sono il dialogo che c'è all'interno della casa va bene il freddo oggi ci 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 fa del male e altro argomento sempre a titolo poi ci entriamo dentro è la luce la luce non è studiata cioè la luce se io devo avere non so rapporto 1 a 8 1 a 10 tra metri quadri del pavimento e finestre il comune ti dice questo hai 10 metri quadri di stanza 1 metro quadro di finestre hai 20 metri quadri 2 metri quadri va bene mi fa piacere però vieni a parlare di qualità della luce allora della luce per farvi male io come dire quando penso alla luce penso 14 tipi di luce quando per farvi male parliamo della luce che non è questa la luce questa non è la luce questa è la luminosità la luce vera è una forza vitale che quando entra nell'atmosfera muore e questo è il cadavere della luce quindi se la luce in me mi dà forse una capacità di pensare una capacità di coscienza non so Topolino si accende la lampadina quando ha qualche idea no? ecco se la luce è vera non devo pensare in termini di come dire protocollo urbanistico quello che è previsto metri quadri di questo io devo pensare alla qualità della luce la qualità della luce vi do una prima cosa pratica proprio semplice dovete fare dovete fate come volete ma gli sguinci delle finestre li chiamate sguinci gli angoli perché ognuno li chiama un po' modo su sguinci è italiano però è un italiano per quattro gatti insomma se questa è la finestra io devo mettere qua le spallette va bene spallette a 30 gradi 30 gradi è l'angolo della luce e quindi io rinforzo la forza della luce costa niente costa costa niente esteticamente io dico ogni volta che mi guardo quelle che stiamo facendo anche se è ancora tutto greso paglia così ogni volta che mi fermo un attimo le guardo l'avevo detto anche a Andrea o anche a altri ma non senti come come proprio l'anima si apre con queste forme a meno tu anche che le hai viste bene da vicino sono anche belle ecco lo dicono il femminile abbiamo anche il femminile pur essendo ancora sul grezzo bene quindi questo è il 30 gradi se poi volete diventare ancora più bravi lo sguincio esterno lo fate a 45 se volete diventare entriamo già nelle finestre allora 30 verso di me 45 verso fuori e questo io come dire una rivitalizzazione della luce poi sarebbe da dire se la stanza è per un lavoro incarnativo tipo uno studio per un lavoro sociale o per un lavoro è un lavoro non è un lavoro è scarnativo andare a dormire quindi la forma della finestra casa per Michele puoi far vedere le finestre se ce ne riesci a trovarle la forma della finestra può favorire una luce che tende a entrare in te e quindi incarnativa lo studio oppure tende a uscire da te quindi che ti accompagna nel dormire per chi soffre di insonnia capite questo lo facciamo con la forma delle finestre l'abbiamo fatto adesso arriverà pian pianino quindi uno studio della luce non solamente come metri quadri ma proprio come qualità di luce vi ricordo che la paglia è silice quindi è luce quindi un edificio di paglia se ne è la luce adesso sta venendo sempre più di moda la canapa che c'è un basso tenore è la canapa di THC quindi l'alcaloide della canapa ne ha 5 volte di meno dico bene ne ha 5 volte di meno ma quando ti metti un muro da mezzo metro capisci che ti stai fumando tutti i calumet degli indiani d'america in una volta sola insomma se c'è bene a 5 volte di meno ma sì ma noi abbiamo messo in totale 150 metri cubi di paglia per fare questa casa quindi immagina 150 metri cubi di canapa dice sì ma c'è basso tenore ci siamo capiti insomma parentesi delle parentesi adesso stiamo lavorando in agricoltura per togliere gli alcaloidi alla canapa è un lavoro che stiamo facendo da alcuni anni per abbassare gli alcaloidi in modo da avere una canapa per uso abitativo che veramente non abbia alcaloidi perché se no vai fuori si vede malissimo però si vede una finestra fatta con un angolo ma si può ingrandire tirare via tutta sta roba almeno ecco vedete un angolo messo di così l'altro messo dall'altra parte si vede abbastanza puoi girarlo un po' e qui siamo sul bordo bordo no ah è così perché si vede anche l'altra va bene allora torna dove eri prima non si sente più sì va bene ferma lì allora in questa stanza questa è la casa la prima edificio quello fatto di mattoni in questa stanza noi abbiamo fatto abbiamo messo in piedi tutto un sistema un apparato per misurare i campi magnetici per fare le prove sui nostri dispositivi come li tolgono quindi abbiamo messo un sistema qua che produceva campi magnetici computer stampante quelle robe lì e poi lo chiamavo l'elicottero due ali di legno che giravano erano anzi quattro così che giravano dove facevamo germinare del frumento in modo che la luce fosse costante e anche immersa in un campo costante perché il campo magnetico è ovoidale non è sferico allora è venuto un ingegnere uno che di mestiere fa questo a misurare il campo magnetico perché essendo ovoidale io devo sapere tutti i punti è una pubblicazione che abbiamo fatto allora gli ho detto misurava anche qui su questa finestra perché fuori noi abbiamo la fortuna di essere dirimpetai delle frecce tricolori con il suo radar con tutto quanto che è una cosa meravigliosa per fare una giornata ci passano ogni giorno sopra la testa vi assicuro che è difficile pensare positivo perché li vedi quasi li vedi in faccia quando fanno così buongiorno allora qui non mi ricordo il campo magnetico diciamo che era 100 non mi ricordo il parametro quindi lui scrive tutto quanto e gli dico ascolta misura anche su questa finestra e mi diceva su 5 metri 6 metri cosa vuoi che cambi rispetto al radar fammi un favore misura anche qua ha misurato anche qua ed era la metà l'ha misurata non so quante volte perché era è saltato l'ingegnere è saltato lì è saltato è saltato perché tra qui e qui l'unica differenza era la forma della finestra ce ne vuole a digerirla ce ne vuole allora la forma della finestra la forma della luce che agisce sul campo è elettrico perché il campo magnetico segue il campo elettrico cambia un po' un po' di tecnicismo bene quindi se io riduco la componente elettrica riduco anche la componente magnetica e l'elettricità se ci pensate un momentino l'elettricità è esattamente l'opposto della luce allora viaggia alla velocità della luce va bene la luce si ferma alle superfici non entra dentro la luce se avete un cavo elettrico chi ci vuole qualche d'uno che magari si ricordi qualcosa di scuola nel cavo elettrico la corrente elettrica non è uniforme dentro il cavo ma è più disposta sulla periferia prova ne sia che i cavi che fanno passano tutto l'Atlantico i cavi di corrente tra Europa e America sono belli grossi dentro sono cavi non c'è il rame perché la corrente elettrica si dispone sulla periferia quindi risparmio coi soldi del rame quindi vedete che è esattamente l'opposto della luce la luce si ferma alla periferia con la velocità della luce la corrente elettrica invece si ferma dalla parte interna alla periferia sempre con questa velocità è l'opposto della luce per cui quando io creo una finestra questo tipo qua questa finestra mi lavora sulla luce e io ho come effetto secondario diciamo così anche una riduzione dei campi elettromagnetici bene qui abbiamo messo tutti i due tipi perché una è più che ti porta fuori diciamo per la creatività e l'altra invece per stare con i piedi per terra perché creativo sì ma non con dei limiti va bene e in mezzo città nostra abbiamo fatto una catenaria questa forma qui un po' la gaudì occhi buoni guardate la forma che abbiamo fatto per la ringhiera vi viene mal di pancia bene allora andiamo avanti no vabbè adesso vediamo l'ultima l'aspetto spirituale poi li facciamo a scansione fatti bene l'aspetto spirituale è quello che non viene assolutamente tenuto conto oggi è domenica mi hanno domandato di essere buono bravo però il concilio di Nice 869 d.C. la Chiesa ha abolito lo spirito l'uomo è composto di corpo e anima non c'è più la visione spirituale anima vuol dire animale bestia va bene la donna non aveva neanche l'anima ricordatelo che dicevano che la donna non si sa più e adesso si parla di anima con facoltà spirituale ma devi spiegarmelo facoltà spirituale sono i nostri valori gli ideali la moralità l'etica persone penso che questa struttura non la struttura fisica l'impulso sia partito da un impulso spirituale non c'è ombra di dubbio che una cosa del genere parte da un valore spirituale lo spirituale che cosa? aiutare il prossimo aiutare il prossimo è una scelta etica poi uno lo fa in un modo o nell'altro è una scelta etica perché uno ha una forza etica che bello sarebbe se quanta gente dice ah che bello che sarebbe se io ho capito c'è l'anelito tanta gente ah che bello sarebbe poi c'è l'aspirazione mi piacerebbe però se non arrivi la determinazione io sto parlando di pensare sentire del volere i determinati è uno su cento dice beh allora sulle maniche fuori le tasche mettiamo tutti i soldi lì e si fa penso che sia un po' stata la vostra storia qui insomma qualche d'uno ha incominciato così a metterci tutto quello che ha e le ore e tempo magari gli si è rovinata un po' la famiglia perché in queste cose succede anche questo perché non tutti hanno i stessi valori i stessi ideali va bene quindi una casa che sostenga anche questo e diciamo questi valori e lì ci si basa essenzialmente sulla sezione aurea lo studio della sezione aurea la sezione aurea appartiene alla geometria sacra la geometria sacra è la geometria con cui venivano costruiti i templi dalla piramide di Cheope al partenone di Atene all'uomo di Leonardo l'uomo di Leonardo ecco questa è tutta geometria sacra perché l'uomo è costruito in geometria sacra bello sto viola non ho parlato dei colori parlando di anima il viola è il colore dello spirito quindi avevo sentito il caldo all'inizio adesso sento anche il viola bene geometria sacra allora qualcuno chi conosce questo argomento conosce 1,618 il cosiddetto numero di Fibonacci no? sì qualche d'uno sì qualche Fibonacci c'è qualche sì qualche d'uno l'ha sentito uno due un po' di interazione miseria bene 1,618 è il numero irrazionale che collega spiritualmente a quella forza che noi possiamo chiamarla spirito santo in noi se usiamo le parole della chiesa manas se usiamo le parole orientali se è superiore se siamo junghiani fate quel che volete sia la mia componente superiore allora Cheope da quel tempo ha detto bene costruiamo in modo che l'uomo si prepari a fare questo passo in avanti dall'anima allo spirito e avanti così io credo che oggigiorno l'abbiamo già conquistato l'io superiore non tutti però tanta gente ce l'ha già conquistato l'io superiore non sono tutti proprio barabba c'è qualcuno che appunto ha dei valori delle scelte e lo vedi ho iniziato a fare agricoltura biodinamica 40 anni fa eravamo 80 in tutta Italia adesso siamo qua in realtà l'agricoltura è normalissimo se devi parlare di biologico e di biodinamico 40 anni fa non era normalissimo anzi non vi dico cosa i commenti che ricevevo non ho neanche neanche ve li lascio immaginare bene allora forse qualcosa abbiamo già conquistato se qualcosa abbiamo già conquistato forse c'è un gradino dopo allora se 1,618 è la sezione aurea dello spirito santo in noi poi c'è quella del figlio e poi c'è quella del padre poi c'è quella della madre cioè noi studiamo in totale 25 sezioni auree e secondo l'edificio ad esempio se fai una stalla mettiamo qua adesso a parte l'attività con i ragazzi ma come stalla andrebbe nella madre la madre ha questa funzione come sezione aurea di proteggere e sostenere tutto il mondo dell'anima quindi animale animale vuol dire portatore d'anima quindi se tu fai una stalla in sezione aurea della madre gli animali sono più sani semplice semplice quindi se nell'architettura organica biologica è già una conquista parlare di sezione aurea sì non ce n'è una però sono tanti tante relazioni che noi possiamo avere poi ci sono relazioni anche con le forze vitali c'è lettere della luce lettere del calore lettere di vita lettere del suono capite e io posso sempre rapportare la mia casa il mio edificio in tutto questo poi le sezioni auree si possono moltiplicare una per l'altra nasce una terza sezione cioè è un mondo è un mondo che noi ci stiamo avventurando ma ad esempio gli edifici di legno e l'ana che forse li troviamo beh quello che dove c'era la porta ho detto casa mia quello che ho detto casa mia quelle lì sono fatte in sezione aurea del padre ho detto io mi faccio in sezione aurea del padre che vuol dire avere la capacità di iniziare a comprendere i disegni evolutivi perché perché si stanno tirando missili in corea perché perché e mi ricordo che abbiamo fatto una prova io sempre facevo i miei i miei i miei esperimenti per i campi elettromagnetici di formazione una volta ero elettrotecnico forse per questo ce l'ho con i campi elettromagnetici poi ho fatto anche altro ecco queste qui queste sono di legno e lana c'è legno legno e mezzo sono 30 centimetri di lana ecco questa è proprio l'entrata questo qua sono io guardate anche qui le ringhiere va bene e una scelta di quelle ringhiere fermati però se non scatta tutto allora ci siamo messi col cellulare a parlare così col cellulare io ero qui davanti alla casa l'altra persona era a 5 metri ci si parlava normalmente e una terza persona con lo strumento che misurava i campi mi sembra che erano 200 micro tesla mi ricordo anche più bene ho fatto un passo dentro casa un passo crollato di 50 volte questo col cellulare quando facevo gli esperimenti sempre per i campi elettrici creavo delle bobine quindi insomma queste robe le so fare avevo tutti il misuratore il computer tutto quanto e queste bobine io le impregnavo di particolari prodotti per vedere cosa faceva se riuscivo a inibire il campo elettromagnetico morale tutto pronto facevo partire l'esperimento non funzionava niente l'ho fatto per tre giorni a rifare la stessa cosa come dire prendo un uovo lo rompo la padella e non diventa fritto il fuoco è acceso quello è acceso l'uovo resta lì pluf tre giorni a non capire finché è venuto il pensiero ma non è che per caso la casa avverte quando c'è qualcosa di negativo e interviene questo vado via adesso posso andare via con quello che ho detto posso andare via e allora ho cominciato a fare questa ipotesi c'è la casa a quel livello di sezione aurea con quei materiali messi in quel modo perché guardate sempre anche le ringhiere è una scelta che la posso spiegare sa sa è senziente quindi quando c'è qualsiasi cosa che inquina che avvelena la casa interviene ho detto da una casa che fa malare possiamo pensare a una casa terapeutica qui siamo già vicino a quella dimensione lì bene l'esperimento poi ho preso le mie bagaglie sono andato nella casa di un amico casa tradizionale e ho potuto fare le mie prove perché lì dentro non potevo fare le prove perché la casa non è una casa normale allora che altro per dirvi queste ringhiere non potevo fare le tue le mie non potevo fare le tue